Edizione della coca da Eurobike E con il numero 2, anche se noi non lo vediamo Donnick Cattaneo, non puoi dire che porto figa, dai Vorrei averti sempre come speaker io allora È andata benissimo, meglio di così, forse manco te l'aspettavi, davvero l'hai dominata Dominata no, abbiamo fatto una gara di testa Yuri sicuramente sta benissimo, è a casa sua, conosceva tutto alla perfezione Siamo rimasti Salerno, Yuri ed io Yuri ha avuto un piccolo problema meccanico in cima a Bertone Io dovevo attaccare, erano in buro di loro, avevo già deciso di attaccare Sono andato forte fino alla fine Abbiamo avuto una gara che mi piace, è una gara nervosa, è una gara tecnica È una gara dove c'è da guidare e stare sempre attenti Fossero tutte così in Italia, vinceremo di più invece c'è solo da far fatica E allora ti aspettiamo tra poco perché ti metteremo sul gradino numero 1 del podio Ovviamente arrivano anche le congratulazioni da parte del fan club Yuri Ragnoli E non poteva essere altrimenti perché dobbiamo sportivamente accettare il verdetto del campo Io invece sono qua con la prima donna del corso Gravissimo